Torna anche quest'anno un Nobel per te, l'iniziativa ideata da Melania Costantino dell'omonimo canale in cui vi raccontiamo i romanzi dei premi Nobel del passato. Io sono stata estratta per parlarvi di Kipling, un autore che purtroppo è accaduto un po' nel dimenticatoio dei lettori attuali. Kipling è nato nella seconda metà dell'Ottocento a Bombay e ha vissuto in parte nelle colonie, in parte a Londra dove poi infatti è anche morto ed è tuttora il premio Nobel più giovane, cioè la persona più giovane a ricevere il premio che ricevette nel 1907. I suoi romanzi più famosi sono sicuramente i due libri della giungla, lui poi aggiunge anche altri romanzi di avventure, delle poesie tra le quali è molto famosa se e poi per via delle polemiche che ne sono nate il fardello dell'uomo bianco che è un po' la ragione per la quale storco un po' il naso. Capisco che sono passati tantissimi anni e per fortuna la nostra mentalità si è un po' evoluta, il concetto del fardello dell'uomo bianco che deve far evolvere secondo la propria cultura le popolazioni che poi vuole anche dominare mi fa alquanto irritare. So che non era nell'intento di Kipling una ragione per giustificare il colonialismo ma il fatto di considerare la propria cultura superiore tanto da pensare che le popolazioni che venivano invase dovevano poi essere portate allo stesso tipo di cultura ecco questo è un concetto che a me tuttora non piace e un po' mi fa storcere il naso. Il romanzo che ho scelto di leggere per questa iniziativa è Kim, un romanzo che viene considerato un romanzo per ragazzi. Io l'ho letto in questa edizione sul Kobo, purtroppo non se ne trova traccia nemmeno sul sito dell'Einaudi però comunque si ritrova facilmente a 2,99 euro in tutti gli store di ebook e se siete interessati è comunque una traduzione abbastanza ben fatta anche se per quanto per essere un ebook la scomodità è che ci sono tantissime parole tratte dall'indiano che poi hanno un glossario in fondo ma nell'ebook avere glossario in fondo è molto più scomodo che non invece piuttosto mettere secondo me una nota che si può cliccare. Ecco questo è il parere sull'edizione veniamo piuttosto al parere sul romanzo. Kim è stato da tanti considerato un romanzo per ragazzi si può dire che sì effettivamente è un romanzo per ragazzi ma che si può apprezzare anche in età adulta io non l'avevo letto a suo tempo e me ne dispiace perché sono sicura che se lo avessi letto quando avevo 13 anni lo avrei trovato favoloso mentre adesso lo trovo un buon romanzo con però secondo me alcuni difetti ma veniamo alla trama prima di tutto. Kim è un ragazzino irlandese che è orfano di genitori ed è stato cresciuto da una donna un po' di malaffare che era la compagna del padre negli ultimi anni della sua vita che si è curata anche molto poco di lui quindi lui cresce sulla strada e lemosinando essendo quello che viene considerato amico di tutto il mondo conosce un sacco di persone sa arrangiarsi molto bene da sé anche a 13 anni e ha un occhio particolarmente brillante per i segreti i misteri e per fare delle piccole commissioni con un uomo che è immischiato nel cosiddetto grande gioco che è quindi una spia dell'impero britannico. Questo ragazzino non sa di essere un cosiddetto sahib ovvero un figlio dei colonialisti lui pensa di essere un indiano qualsiasi e infatti fa una vita abbastanza misera nonostante non si consideri misero di per sé cioè lui non è un disperato lui è felice di fare questa vita nella strada essere amico di tutti i popoli come dice lui finché non incontra un lama che è alla ricerca del cosiddetto grande fiume dove se ci si immerge ci si libera da tutti i peccati facendo amicizia con questo lama decide di seguirlo e insieme cominciano una serie di avventure tra le quali il fatto che kim incappa nell'esercito irlandese e soprattutto in persone che conoscevano suo padre e che quindi lo strappano tra virgolette al lama per mandarlo a studiare questa è una cosa che però di per sé al lama non dispiace perché lui pensa che il fatto che il ragazzino studi che impari a scrivere a far di conto che trovi una professione molto più remunerativa che non seguire un lama e del limusinare per lui la trova una cosa positiva tant'è che infatti decide di pagarla lui l'istruzione del ragazzino attraverso i soldi del suo monastero quindi kim studierà nel miglior collegio di tutta l'india grazie all'aiuto del lama al quale lui è molto affezionato siccome è un ragazzino sveglio che ha la possibilità di essere sia un britannico ma che conosce benissimo le popolazioni che vivono nell'india autoctoni indigeni e che può essere a sua volta scambiato per un indigeno lo considerano la persona perfetta per continuare a fare l'agente segreto al servizio dell'impero britannico e quindi di sventare dei piani di invasione da altre popolazioni o comunque delle rivolte da parte di rajah locali lui cresce fa appunto conoscenza impara a scrivere a leggere e si troverà in avventure da agente segreto ritrovando poi sulla strada il suo lama adorato e capendo quale sono per lui le cose importanti nella vita questa in soldoni è la trama poi c'è da aggiungere sicuramente la parte più bella che sono alcuni personaggi che lui incontra sulla sua strada tra cui sicuramente il lama ma più di tutti un babau che è un bengalese da quanto ho capito che è anche lui fa parte del grande gioco ma è un personaggio bislacco che parla di sé come un uomo molto pavido ma in realtà si trova in situazioni pericolosissime e le affronta senza colpo ferire ha invece una saiba cioè un'anziana donna indiana di buona famiglia molto ricca che le aiuta più volte dando loro da mangiare a lui e al lama e che ha una lingua biforcuta incredibile e tiene testa a tutti con le sue parole velenosi lei simpaticissima si prende a cuore kim e lo aiuta quando lo trova denutrito insomma dei personaggi assolutamente straordinari un'altra cosa stupenda di questo romanzo sono le descrizioni descrizioni magari di un bazar oppure di un paesaggio ma anche le descrizioni di certi personaggi tra cui la saiba piena di gioielli le mani gli anelli oppure ad un certo punto di un incantesimo che viene fatto a kim per proteggerlo dalla malasorte anche lì che sembra di essere dentro la tana fumosa della incantatrice e quasi anche noi veniamo pervasi da questa magia mentre leggiamo il romanzo quindi assolutamente su alcune delle descrizioni vale la per le descrizioni secondo me a questa età vale la pena di leggere il romanzo un romanzo pieno di avventure rocambolesche che però secondo me ha il difetto di avere tutte le situazioni inanellate una dietro l'altra e anche di non avere un vero scopo finale nel senso che diciamo che come tipo di trama è una trama da cerca però non è il protagonista a fare una ricerca come magari possiamo pensare nel signore degli anelli i personaggi partono alla ricerca di questo anello lui non parte alla ricerca di niente è il lama che sta cercando il fiume lui l'unico interesse che ha all'inizio della storia è stare con il suo adorato lama e anche dopo quando lo accompagna è solo un andare per strada perché lui ama la strada chiamata con la s maiuscola proprio perché è un tipo di vita che lui fa per la strada camminando andrando verso da una città all'altra e aiutando il lama a cercare questo fiume miracoloso ma quello che lui non ha un scopo nella sua vita nel senso che accoglie le avventure come può cerca di aiutare l'impero britannico con la sua conoscenza e con le casualità che gli si mettono per caso nella strada per esempio ad un certo punto incontra ad un altro agente segreto che ha bisogno di aiuto e lui gli presta il suo aiuto per salvarlo ecco tutte queste avventure gli capitano lungo la strada kim non ha un vero scopo nella vita e quindi di per sé il romanzo si perde un po di scopo qual è l'obiettivo di kim noi non lo sappiamo secondo me non ce l'ha ecco questo secondo me è il grosso difetto di questo romanzo dopodiché leggerlo è piacevolissimo perché gli capitano un sacco di avventure molto affascinanti e si viene trasportati come se davvero si volasse su un tappeto volante di tipo persiano anche se è vero che siamo in india e non in persia però è veramente riempie il nostro immaginario di colori odori sapori profumi per cui ecco questa è la ragione per la quale vale la pena di leggerlo dopodiché lo trovo un po munco da questo punto di vista tuttavia è una lettura che mi sento di consigliare se non l'avete fatto da ragazzi prendetela in considerazione anche per una lettura estiva perché secondo me è una di quelle letture che si possono tranquillamente fare sotto l'ombrellone ci si porta via si è come viaggiare lontani questa era la mia opinione per il libro che ho letto per un nobel per te che era kim e noi ci rivediamo lunedì con il prossimo video e nel frattempo buona lettura a tutti